Ciao a tutti ragazzi sono Santelopez e ben togliati qui questo nuovissimo video precisamente il terzo episodio di Crash Royale ragazzi fino al mondo non ho visto commenti ma quando vado a vedere non ne trovo commenti quindi non ripeto più lasciatemi i commenti se mi volete lasciare i commenti lasciatelo a voi sta a voi deve piacere questo gioco allora siamo ritornati per il terzo episodio di Crash Royale ripeto allora siamo a 763 trofei vicinissimo all'area 3 per prima cosa come tutti i video come tutti gli episodi andiamo a aprire i primi due paure ovaggio che adesso lo andiamo a aprire ora 29 di oro uno di sgherri e tre bombaroli la epica ragazzi non c'è uscita non c'è uscita per niente speriamo che ci esce il baule d'oro 31 di oro 2 gemme tre goblin e un mini pecca allora mettiamo a sbloccare subito il baule d'oro e andiamo a aprire il baule d'oro sperando che ci esce la epica ragazzi 88 di oro penso che non esce perché se non esce Crash Royale mi fa arrabbiare 88 di oro 1 di arcieri 5 di sgherri 7 frecce e i morti della madre 1 un altro re bombardea scusate ragazzi ho detto la parolaccia però fin quando ci vuole ci vuole Crash Royale è proprio un gioco di merda di merda ragazzi perché occhio raga perché possiamo aprire il baule del clan andiamo a aprire il baule del clan 360 di oro 17 arcieri 36 scheletri 6 capanne di goblin occhio occhio perché può uscire la epica ragazzi può uscire la epica andiamo a aprire e c'è uscito la epica il baule goblin dal baule del clan c'è uscito il baule goblin la puntata entusiasmante questa ragazzi il baule goblin c'è uscito il baule goblin ottimo ottimo che andremo a mettere di sicuro dentro andremo a mettere al posto bella bombarolo poi vediamo che carta più sta da migliorare allora la formine andiamo a migliorare la formine 400 anzi no non miglioriamo niente ragazzi scusate sposto attivo la webcam andiamo a fare la prima battaglia di questo episodio come ho detto ieri quattro battaglie episodio porterò siamo contro uno di livello 4 c'è uscito la epica c'è uscito il baule goblin aspettiamo sempre che attacca l'avversario però lì ha attaccato con la mongolfina quindi vado ad attaccare con le mini pecca goblin l'angeli e boschettiere e se ci vuole anche gli sgherri poi ragazzi è arrivato il momento di usare la varchile non è ancora il barile goblin lo usiamo proprio in questo momento e ci vediamo la prima torre ma attenzione che l'aube subì di becca quindi c'è l'alcolato le bombardiere baby di becca subisce caldo qui per difenderci ragazzi dobbiamo mettere il moschettiere oggi prete la torre poi copri l'ageli vatti ci ha preso la torre siamo 1 a 1 ragazzi 1 a 1 ricordiamo che in questo deck solo una ne abbiamo persa attenzione attenzione ragazzi andando a me attenzione ragazzi siamo sull'1 a 1 no pai raga dopo questo video oggi usciranno due video perché uscirà anche un video di scorre hero non so se voi lo conoscete scorre hero lo porta uno youtuber pure andiamo a attaccare anche il barile goblin dai però non vi dovete distrarre dai porcaccia puttana e la torre la torre la torre è presa la torre e vinciamo per 3 a 1 la prima battaglia di questo episodio terzo episodio di crash royal andiamo a vincere 3 a 1 ottimo citato 22 trofei vediamo a quanti trofei stiamo 792 una battaglia se la vinciamo andiamo in arena 3 il titolo si dovrebbe chiamare finalmente arena 3 se arriviamo in arena 3 ragazzi non abbiamo in paura dal centro con le gemme 26 oro un coprilangeli e 3 cavallieri credo già facciamo proprio niente allora lo sbrocchiamo il baule d'argento aspettiamo l'altro baule siamo sempre con uno di livello 4 seconda battaglia di questo video legato subito con il principe e qua e qua mi servirebbe la valchire però niente da fare ce l'abbiamo fatto andiamo con la moschettiere e ci vendiamo la prima torre stiamo sul 1 a 0 siamo anche il principe se carica forse il principe stiamo sul 1 a 0 se non mette nessuna carta siamo i coprilangeli di confort al principe attenzione perché non ha messo nessuna carta e vinciamo anche questa per 3 a 0 l'avversario nostro ha giocato i primi due minuti della battaglia e poi ci ha lasciato fare tutto a noi e occhio raga perché dovremmo essere in arena 3 e così è siamo in arena 3 il titolo di questo episodio del terzo episodio si chiamerà finalmente arena 3 con una epica barile goblin tanto ci dicono un euro il baule gigante finalmente arena 3 ma dobbiamo mettere per forza uno e sbloccare mettiamo il baule dal centro raga andiamo con la terza battaglia di questo episodio è la prima in arena 3 con da 1 di livello 5 siamo anche 2 di livello 5 prima battaglia in arena 3 terza battaglia di questo episodio aspettiamo a lui che attacca attaccato subito calvaliere quindi io vado col principe mini pecca copri i langeli e mi servirebbe il moschettiere però metto gli sghetti lui è il barbari ragazzi quindi qua ci serve la varchile vediamo se la varchile riesce a scamparla con dei barbari di fatti è così di fatti è così mettiamo il moschettiere insieme alla varchile poi mettiamo il barire goblin dietro e la prima torre ce la dovremmo prendere per forza attenzione e sì è così è così la prima torre siamo da zero per questa prima partita il arena 3 mettiamo il mini pecca l'avversario ci lascia giocare solo a noi ma penso di no mini pecca quindi attacchiamo anche di principe se si muove lui è attaccato di principe di fatti è così io l'ho detto l'avversario lo ci fa giocare è attaccato anche con la con la mongolfiera quindi io vado col boschettiere l'avversario ha lasciato lo sconto quindi io vado col mini pecca ragazzi perché l'avversario ha lasciato lo sconto non riesce a vincere contro di noi andiamo anche col principe ma la torre ce l'apprettiamo e vinciamo 3 a 0 per questa terza battaglia di questo episodio e prima battaglia in arena 3 prima battaglia in arena 3 ora andremo a fare la seconda battaglia in arena 3 andremo a fare la seconda battaglia in arena 3 cioè la quarta e ultima partita di questo episodio siamo 852 trofei vediamo quanto ci vuole per arrivare in arena 4 1100 trofei ora punteremo in alto punteremo direttamente all'arena 4 devo fare l'ultima battaglia di questo episodio siamo sempre con il livello 4 cinese o giapponese occhio raga perché questi sono veramente tosti gli cinesi c'erano tutti buggati i loro tech c'erano tutti buggati i loro chi raga forse la prima torre ce la prendiamo vediamo no perché ci è molto siamo ancora sullo 0 a 0 1 1 2 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 1 a 0 stiamo vincendo stiamo vincendo 1 a 0 sono arrivati i 60 secondi ora 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 lo devastiamo ora lo devastiamo ragazzi lo devastiamo ora lo devastiamo perché i principi ancora invitano e ora andiamo a vincere andiamo a vincere 2 1 go e abbiamo vinto per 1 a 0 contro un cinese un giapponese ditemi voi che cos'è ma però l'importante che abbiamo vinto per 1 a 0 non fa niente l'ultima partita l'abbiamo vinta per 1 a 0 senza perdere vediamo quanti trofei 882 manca poco ragazzi mi raccomando se questo video come sempre vi è piaciuto vi invito non dico niente ragazzi vi dico solo iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e dai ripeto ancora l'ultima volta commentate sotto se volete altri episodi ragazzi però commentate commentate che dire raga lasciatelo per se è tutto e bella raga uscirà un altro video state sintonizzati sul mio canale ok